Musica Vita in provincia, bel passo taglia alla spesa sociale, la segreteria provinciale della UIL ha incontrato l'assessorato comunale ai servizi sociali. Il confronto è stato definito proficuo dall'assessore al ramo Daniele Motta che ha illustrato la situazione del bilancio parlando di continua emergenza per via dei tagli da parte di Stato e Regione. Il vecchio piano di zona del distretto che comprende Paternobel, Pasto e Ragalna è passato infatti da 2,5 milioni di euro a 900 mila euro. A determinare maggiori difficoltà sarebbe l'aumento dell'utenza in stato di bisogno e nuovi decreti e leggi dell'assessorato regionale alla sanità che hanno riversato sui comuni il costo di diversi servizi. Secondo i dati finora raccolti dal segretario generale della UIL di Catania, Fortunato Parisi, si parla di un quadro generale sconfortante che inciderà fortemente sulle fasce più deboli. Per discutere di misteri e allarmanti anticipazioni del piano regionale di riordino sanitario, alle 17 di oggi nella sala amico Geraci della UIL in via San Giuliano 365 si riuniranno con il segretario generale della UIL Fortunato Parisi, direttivi UIL Medici e UIL Funzione Pubblica, assieme ai responsabili sindacali dei presidi ospedalieri e territoriali di Catania e provincia. Saranno presenti i segretari provinciali UIL Funzione Pubblica e UIL Medici, Stefano Passarello e Filippo Bentivegna. Bel passo atti di vandalismo nella scuola elementare. Il plesso di Via Silva, ex ITIS, che al suo interno ospita sei classi di prima elementare del circolo didattico Madre Teresa di Calcutta, questa notte è stato preso di mira dai vandali. Sono riuscite ad entrare all'interno della scuola scavalcando la recinzione metallica dalla parte posteriore del cortile, poi hanno forzato il portone. Una volta all'interno hanno rovistato tra armadi, cattedre e banchi dei bambini, hanno frugato nei cassetti, buttato per terra quaderni, versato aranciate e succo di frutta e rovesciato alcuni banchi. Non sono stati rilevati grossi danni, non è stato rubato nulla, sono state rotte solo due ante degli armadi ed è stato danneggiato il portone dell'uscita di emergenza. Sul posto questa mattina sono intervenuti i carabinieri della stazione di Belpasso, la dirigente del circolo didattico, professoressa Provvidenza Calvagno, che ha asporto denuncia, personale dell'ufficio tecnico comunale e il sindaco Carlo Caputo. Dal sopralluogo è emerso che le telecamere poste sul terrazzo del plesso e sul cinema non sono in funzione e la struttura è anche priva di un sistema di allarme. Valverde Alfio Sambataro, nuovo presidente del Consiglio, così si chiude la lunga vicenda legata al ricorso al TAR presentato e vinto dai consiglieri di opposizione che avevano contestato di non aver avuto i tempi previsti dalla legge per l'esame del bilancio preventivo del 2013, arrivato e approvato in Consiglio il 30 dicembre dello stesso anno. La sentenza del Tribunale amministrativo di Catania, che di fatto ha annullato la delibera del Consiglio, che approva il bilancio preventivo del 2013 e che deve adesso tornare al vaglio dei consiglieri di Valverde, ha portato Mario Di Pietro, nei giorni scorsi, lo ricordiamo, a rassegnare le sue dimissioni della carica di presidente del Consiglio, decisione sulla quale Di Pietro non è tornato nemmeno a seguito della sua nuova elezione scaturita dalla prima votazione del civico consesso, che ha poi eletto il suo vice, Alfio Sambataro, della stessa lista di maggioranza Valverde Viva. Nel corso della stessa seduta il sindaco Rosario Giuseppe D'Agata ha poi presentato la nuova giunta, composta da Gaetano Marziano al bilancio personale, rapporti con le partecipate, attività produttive, politiche comunitarie, Cetta Nasisi alle politiche e servizi sociali e assistenze, Luigi Maria Torrisi allo sport, turismo, cultura, manutenzione, arredo urbano, verde pubblico, servizi ecologici, rapporti con le associazioni e Angela Vitale agli affari scolastici, solidarietà, pari opportunità, rapporti con le frazioni. San Giovanni e la punta via l'Eternit dalle strade del comune, l'amministrazione comunale e l'assessorato all'ecologia, retto da Giovanni Russo in collaborazione con la ditta Dasti, hanno provveduto alla bonifica e rimozione di Eternit da via Palmentazzo, Duca degli Abruzzi, Monaci, Mantia, Crotone, Catira, Savona, Mamelia ed Alessandro Volta. Il risanamento dei siti invasi dal pericoloso materiale ha seguito l'iter procedurale previsto dalle legge con notifica preliminare all'ASP ottenendo tutte le autorizzazioni del caso, ciò al fine di garantire la sicurezza degli operatori addetti alla rimozione, trasporto e smaltimento finale, oltre a quella delle persone e degli animali che si trovano in prossimità dei siti. Nei prossimi giorni via Palmentazzo sarà liberata anche dai cumuli di rifiuti non pericolosi abbandonati indiscriminatamente. San Gregorio al via il progetto Bibliocreando per trasformare la biblioteca comunale del Centro Incontro Minori di Via Bellini in luogo creativo per bambini è stato realizzato al suo interno un angolo lettura a misura dei giovani lettori allo scopo di avvicinare grandi e piccini al mondo della lettura. Il primo appuntamento avrà luogo domani dalle ore 16 alle 18, seguiranno altri due incontri il 22, 23 e 29 novembre. Il progetto consiste in un laboratorio creativo di riciclaggio con l'arte di Munari con la collaborazione della società ICAMA e patrocinato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di San Gregorio.